Siamo a Livigno con l'istruttore nazionale Nicola Cotti e Cottini, Prosky Team, secondo anno di attività dello Sciclub Bresciano, il punto sulla sulla stagione? Diciamo che la stagione anche quest'anno è andata nel migliore dei modi soprattutto per gli allenamenti anche se con la problematica del covid nelle nostre zone della provincia di Brescia e Bergamo in Valle Camonica siamo riusciti a fare un proficuo lavoro. Lo Sciclub è il secondo anno che che lavora operativamente, i nostri ragazzi che sono tutti ragazzi giovani che si preparano per le selezioni maestri, i ragazzi che hanno provato per quest'anno a fare la selezione sono passati tutti i nostri ragazzi quindi un bel risultato per lo Sciclub. Infatti ti tengo a ringraziare anche il mio collega Garavelli e anche Sabrina Fanchini che dava una mano allo Sciclub per la categoria giovani e siamo molto contenti. Il prossimo anno avremo anche la categoria cuccioli e baby ragazze lievi che sarà il nuovo innesto del Prosky Team. Abbiamo anche un gruppo di master, ci troviamo Livigno, arriveranno questi giorni per concludere il finale di stagione parecchi master dove faremo e continueremo il programma iniziato durante l'inverno insomma.